benvenuti in questo nuovo video un video tratto sempre dalla diretta del 9 dicembre nel tramezzo delle delle chiamate dei nostri cari di chi era online ho fatto una domanda le mie guide e ho chiesto di giulia andiamo allora non esprimo pareri personale in questo caso perché è un caso delicato si è parlato molto tante volte si è parlato per niente non sapendo determinate situazioni non sapendo determinate cose io penso che comunque è meglio stare zitti fatto un po clamore scalpore il fatto che comunque hanno portato in risalto questa situazione in confronto altre donne poi scomparsi i giorni successivi senza che nessuno sapesse qualcosa insomma sì ok era giovane però io avevo questa mia sentimento perplessità tante altre tante altre cose che mi frullavano nella testa e c'era secondo me qualcosa che comunque non quadrava non non mi corrispondeva a quello che percepivo e vabbè comunque andiamo a sentire la chiamata che io non chiamo lei ma chiedo alle mie guide come sta lei quindi non è una chiamata diretta e adesso andiamo a vedere andiamo a vedere dai allora via e intanto che abbiamo questo momento di pausa volevo chiedere alle mie guide come sta giulia come si chiamava consiglio mi chiamava di cognome cecchettino la ragazza che di vent'anni 21 anni è morta porella è passata nell'aldilà per femminicidio dal ragazzo lì ma insomma come sta giulia c'è che ti forse mi pare io con i nomi i cognomi sono incasinato guide mie come sta giulia allora rispondono subito è vero c'è c'è perché ci sono stati dei tiktok dei video dei blog eccetera eccetera che dicevano che lei non era non era passata oltre o meglio si creano leggende come elvis presley che era vivo e tra il che era vivo eccetera 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 e in questo caso nei miei guide mi dicono e mi fanno sapere è vero c'è c'è è vero è di qua lei porella è passata oltre ecco insomma qui dicono blocca la 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 vedono e la chiamano questo blocca la la l'hanno vista e quindi io ho alle mie guide ho chiesto di lei non ho chiamato lei però mi risponde lei sempre ma da lui dice e questo diciamo che potrebbe essere riferito al ragazzo ma potrebbe essere riferito a un'altra persona perché perché poi dopo alla fine di questa metafonia vedremo una canalizzazione e spiegherò anche la canalizzazione e qui io dico è qui e mi dicono in radio cioè è qui che stavamo dolando i fonemi offerti che offro per modificarli e parlare insomma e dirci quello che ci vuole dire il radio e dice sì urrà finalmente qualcuno mi ha chiamato con un attimo di briciolo di sentimento ma anche di intelligenza perché dopo la diretta che ho fatto qualcuno mi ha mandato dei degli audio di prove di metafonia e non c'è competenza a riguardo perché comunque uno quando chiama la determinata anima secondo me non è che lo chiama per sapere veramente come sta o sapere qual è il suo cammino o sapere determinate cose la chiama perché è una moda e questo secondo me è sbagliato soprattutto se non si ha guide alle spalle diciamo come le mie insomma vabbè andiamo qui mi dice io sono scesa sono scesa da un piano astrale differente e sono venuta qui perché comunque il nostro piano astrale cioè il nostro piano è determinato uno dei più bassi perché è a livello terreno poi ci sono i livelli astrali sia più alti di noi ma anche più bassi di noi comunque lei si trova in un livello astrale che è un pelino più alto del nostro livello insomma è un po' una cosa complicata e complessa da spiegare così cioè poi non voglio fare un video di un'ora andiamo avanti Giulia se è nella luce qualcuno risponde la diva io chiedo se è nella luce qualcuno risponde la diva ed ecco qui un'anima diciamo vicino a lei che in qualche maniera sta cercando di trattenere il suo percorso e qua dice erba è non so dove l'hanno trovata cioè non sono stato molto a guardare dove è stato trovato il corpo eccetera eccetera perché queste cose a me non mi interessano poi c'è la giustizia terrena e c'è una giustizia divina che non va a pari passo dalla nostra alla loro insomma qua dice le colline e allora non so se riferisce dove è stata trovata oppure è in un piano astrale dove comunque lei vede delle colline qua dice somma ne fai praticamente bisogna fare la somma di tutto quello che abbiamo fatto in vita e di quello che abbiamo subito anche in vita soprattutto quello che ha subito lei nell'ultimo nell'ultime ore istanti dalla sua della sua vita e qua dice è l'isolamento praticamente si trova in un posto dove è isolata e buio anche se ci sono non lo so se il corpo è stato trovato tra colline e erba non lo so comunque mi dice che è in isolamento dice che scende scende qui a a parlare qua dice tra noi Fabio Fabio è un altro mio spirito guida io ne ho tre uno fisso che è Luca uno è Fabio e uno è Diego se non c'è Fabio c'è Diego se non c'è Diego c'è Fabio oppure c'è sempre Luca infatti in questa in questa diretta mi pare che non c'era Luca e quindi probabilmente c'era Fabio poi adesso non mi ricordo le altre sessioni se poi è arrivato Luca o meno non lo so comunque ci dice una cosa fondamentale Fabio c'è brutto c'è brutto ora andiamo alla canalizzazione della mia amica la mia amica ha provato un paio di volte a cercare Giulia ma le prime volte non ci è riuscita perché non si era preparata in un modo adeguato perché non poteva pensare che comunque lei in qualche maniera era turbata e non solo turbata perché quando poi si è turbati di là si avvicinano anime di basso livello eccetera eccetera e quindi ha dovuto ha dovuto proteggersi per andarla a cercare di fatti poi io gli ho detto alla mia amica varie cose che avevo visto dei TikTok delle cose molto particolari inerenti anche alla famiglia e qui di fatti la mia amica si è premonita e ha cercato di contattarla di fatti ieri che era sabato mi arriva la sua canalizzazione praticamente in diretta mi ha scritto praticamente Giulia ecco andiamo a vedere allora mi dice buongiorno Adamo c'è qui Giulia grazie di aver chiesto di me è stato come uno spiraglio di luce dopo tanto voglio intorno a me ed ecco vedete che comunque lei non stava bene era al buio aveva sicuramente anche paura perché comunque una ragazza di 22 21 anni adesso non so bene passare d'oltre in quella determinata situazione e in quel modo c'è il distacco tra anima e corpo diventa molto tutto problematico è difficile insomma ecco allora una mano tesa per farmi capire che ancora esisto questa è la dimostrazione del fatto che comunque quando qualcuno chiede di lei e lei capisce percepisce che comunque c'è qualcuno che sta chiedendo di lei gli fa capire che comunque non è sola non è in un mondo differente ma c'è sempre qualcuno di qua pronto a cercare di aiutarla come come ha fatto la mia amica e come ho fatto io chiamandola in metafonia il buio il buio è in noi quando non comprendiamo perché chi dovrebbe amarti e proteggerti ti fa del male qui non do opinioni personali ognuno poi si tirerà le somme insomma io volevo vivere solo la mia vita e liberarmi di cose e di persone che non risuonavano più con la mia anima a volte chi dovrebbe proteggerti diventa l'artefice della tua distruzione siamo vittime di un mostro nascosto sotto mentite spoglie mia madre io puntini puntini e anche mia sorella il quale non è più ciò che era un tempo il mostro ha preso possesso nella nostra famiglia non credi mai fino in fondo che possa essere possibile eppure accade nonostante l'esteriorità continua ad essere la stessa che conosci io ho bisogno di aiuto ma ora già mi state aiutando perché poter parlare con voi mi libera di un peso troppo grande da provare soprattutto perché incomprensibile fatto dalla persona che dovrebbe amarti più di sé stesso parla del padre visto che ti ha donato la vita non dimenticatevi di me siete sempre persone buone come vi vedo ora il mio percorso ora sarà meno difficile avendo potuto esternare ciò che avevo dentro avrei voluto fare tante cose ma almeno ora so che questo mondo esiste e appena potrò cercherò la mia mamma grazie grazie mi avete rigenerata con amore in questo mondo dove non avrei potuto farlo da sola perché qui si trova in tutti solo il buio dell'anima per ciò che si subisce grazie questo l'ha scritto Giulia andiamo a schermo intero al mio faccione e insomma avete sentito un po' la canalizzazione e la domanda è chi è il carnefice in verità e Giulia parla di una cosa molto importante e fondamentale che io quando ho visto la famiglia ho visto il papà ho visto la sorella io ho avuto il mio pensiero espresso la mia sensazione espressa anche alla mia cara amica e Giulia in qualche maniera ci ha dato un messaggio molto molto particolare e importante quindi non è sempre ciò quello che appare è la realtà è la verità delle cose insomma chiedo venia per per gli altri che stanno aspettando le risposte della della diretta del nove tra sabato cioè nei sabato e domenica uscirò con gli altri video fino alla fine dell'anno insomma non mi fermo sabato e domenica anche se poi sarà natale ci saranno le feste e niente abbiamo sentito questa canalizzazione abbiamo sentito Giulia che comunque ha esternato i suoi sentimenti e quando già un'anima esterna i suoi sentimenti e trova qualcuno per dire guarda che è così 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 incomincia a liberarsi da quelle parti scure da quelle cose tenebrose che ha in sé che ha subito eccetera eccetera insomma tante preghiere a Giulia poverella che il suo cammino sia sempre più bello che vada in pieni astrali più luminosi e sereni e felici e papà Dio avrà cura di lei e niente al prossimo video intanto che abbiamo questo momento di pausa volevo chiedere alle mie guide come sta Giulia come si chiamava come si chiamava di cognome Cecchettin la ragazza che di 20 anni 21 anni è morta porella è passata nell'aldilà per femminicidio dal ragazzo lì insomma come sta Giulia Cecchettin forse mi pare io con nomi cognomi sono incasinato guide mie come sta Giulia e qui il radio Giulia se ne ho la luce con lì lì aspettano a 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 Grazie a tutti